Musica 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 Evolgo il mio saluto ai rappresentanti delle associazioni Marinai d'Italia di Monte di Procida alle associazioni dei marittimi il capitano lungo corso e di macchina al signor sindaco e all'amministrazione tutta che hanno voluto questo mio intervento fortemente al sindaco di Monte di Procida che è gradito nostro ospite questa sera alle autorità religiose militari e civili a tutti i turisti ai cittadini e giovani presenti da presentanza dell'istituto nautico di Procida anche quest'anno ci ritroviamo qui in occasione di questa solenne cerimonia per rendere onore a tutti i caduti in mare siamo qui per rendere onore ai marinai militari e civili pur nella consapevolezza che l'onore che gli rendiamo oggi è ben poca cosa rispetto all'onore e al sacrificio che essi hanno reso alla nostra nazione lo sento personalmente un dovere come militare e come italiano sono nato in una città di mare e sento il fascino del mare tutto ciò che riguarda la vita di mare mi attrae ed ammiro le regole dell'onore della solidarietà che legano la gente di mare in questi due anni e più ormai trascorsi in cui ho avuto l'onore di assumere il comando dell'ufficio circondariale marittimo di Procida ho vissuto ancora più forte questo sentimento e posso testimoniare di questo forte legame dell'isola tutta con il mare che ho sentito ancora più parte della mia vita non solo professionale ma anche umana non deve sembrare scontato ricordare a tutti quanto questo legame sia forte in una realtà che a differenza di altre può vantare con orgoglio di essere terra di naviganti che si sono fatti e si fanno onore in tutti i mari del mondo con professionalità e sacrificio isola sede di un istituto nautico che recentemente ha festeggiato i suoi 180 anni di storia e che oggi è sede ambita e prestigiosa per studenti provenienti anche dalle altre località di Mitrofe un'isola connotata da la definirei operosa vitalità marittima in tutti i settori legati al mare dalla portualità turistica alla pesca dal charter nautico alla cantieristica solo per citarne alcuni una comunità marittimo portuale che grazie all'operato del personale delle capitarie di Porto Guardia e Osiera è consapevole di essere prontamente ascoltata nel momento del bisogno e dalla quale ottengo frequenti attestati di riconoscenza e solo grazie al sapersi donare all'incondizionato spirito di servizio alla professionalità infatti che si rende un'efficiente organizzazione e si divenda indispensabili per il paese un legame con il mare indissolubile quello di Procida e dei Procidani che ci porta stasera a ricordare quanti in mare e per il mare hanno perso la vita la cerimonia odierna rappresenta allora l'occasione per esprimere alle famiglie di tutti i caduti in mare la nostra partecipazione a un dolore mai sopito mai dimenticato essere qui oggi vuol dire rendere onore a colore che hanno dato se stessi nel nome di ideali che trascendono da ogni individualismo da ogni egoismo e anche questo il senso profondo della nostra presenza raccolta e consapevole far sì che ricordo non sia fine a se stesso non si esaurisca nella ritualità formale di una circostanza solenne ma lasci dentro di noi il germoglio di un impegno sincero determinato cosciente affinché ciascuno possa tributare nella propria quotidianità l'omaggio a chi ha compiuto per noi il sacrificio più grande la corona di alloro che è su questo palco quindi si fa emblema di riconoscimento per questo commemorare significa ringraziare in questa serata dedicata ai caduti in mare militari e civili ringraziare coloro che con il loro sacrificio hanno lasciato in noi profondi valori da coltivare sempre non sciupiamo nell'insegnamento ma continuiamo a raccontare ai nostri figli che anche oggi la pace la sicurezza il nostro mare l'ambiente non sono dati per scontati ma ci chiedono giorno per giorno di proteggerli anche nelle nostre case cominciando ad insegnare ai nostri figli il rispetto per il mare per l'ambiente con la consapevolezza di affrontarli sempre nei limiti delle proprie capacità e con l'osservanza delle norme poste a tutela non solo del bene stesso ma della vita umana in mare e della sicurezza nel suo senso più ampio colgo l'occasione per ribadire la necessità di perseguire anche in questo periodo di crisi ogni sforzo economico per innalzare il livello di sicurezza dei nostri naviganti e mi permetto di dire di tutti gli utenti del mare sacrificio solidarietà generosità spirito di servizio ecco l'Italia che vogliamo onorare ecco l'Italia che dobbiamo difendere ogni giorno ecco il ricordo doveroso ai nostri caduti a uomini che hanno fatto grande il nostro paese che nel momento della difficoltà non sono scappati non hanno tentennato nemmeno di fronte alla paura ma sono rimasti fermi fermi nel perseguire il loro lavoro uniti dallo stesso pensiero dagli stessi principi di solidarietà dedizione al dovere e generosità ecco credo allora di poter cogliere i sentimenti di molti nel dire che oggi siamo qui nel nome di chi è caduto in mare perché inseguiva una speranza uomini e donne sì anche donne che hanno creduto nei valori sino al sacrificio estremo crediamoci noi tutti in questi valori crediamoci sempre grazie o Dio onnipotente misericordioso che santifichi le tue creature con la tua potenza e la tua parola benedici questa corona e questa targa che in segno di gratitudine deponiamo in onore di coloro che sono caduti in mare in tempo di guerra o in tempo di pace dona loro la beatitudine eterna e concedi la grazia di custodire sempre nei nostri cuori la memoria delle loro persone e della loro grandezza morale per Cristo nostro Signore a te o grande eterni Dio Signore del Cielo e dell'Abisso cui obbediscono i venti e le onde noi uomini di mare e di guerra ufficiale e marinai d'Italia da questa sagra nave armata della patria leviamo i cuori salve ed esalta nella tua fede o grandio la nostra nazione dà giusta gloria e potenza alla nostra bandiera comanda che la tempesta e i frutti servono a lei pone sul nemico il terrore di lei fa che per sempre la cingono indifesi petti di ferro più forti del ferro che cinge questa nave a lei per sempre dona vittoria benedici o Signore le nostre case lontane le care genti benedici nella cadente notte il riposo del popolo benedici noi che per esso vediamo in armi sul mare benedici preghiera del navigante al calar della sera noi uomini di mare a te leviamo Signore la nostra preghiera e i nostri cuori i vivi sulle nave i morti in fondo al mare fa che la notte ti passa serena per chi veglia nel lavoro per chi stanco si riposa fa che ogni navigante prima del sonno si segni col suo segno nel tuo amore nel tuo perdono e in pace con i fratelli fa che ogni nave conservi la sua rotta ad ogni navigante la sua vita comanda ai venti alle onde di non cimentare la nostra nave comanda al maligno di non tentare i nostri cuori conforta la nostra solitudine con il ricordo dei nostri cari la nostra malinconia con la speranza del domani le nostre inquietitudini con la certezza del ritorno benedici le famiglie che lasciamo sulla riva benedici la patria e tutte le padri dei naviganti che il mare unisce e non divide benedici chi lavora sul mare per meritarsi il pane quotidiano benedici chi lavora sui libri per meritarsi il pane benedici chi infonda al mare attende la tua luce e il tuo perdono e così sia attende buona attende Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.